sei stonato è una precisa scelta d'esecuzione lasciatemi cercare sto imparando nuove canzoni ma prima mi serve un po di riscaldamento vocale la 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 sono tante note in una sola buon compleanno teresa ecco alcune immagini pertinenti tanti aguri a te tanti aguri a te tanti aguri a mamma tanti aguri a te ecco cosa ho trovato su youtube tanti aguri a te tanti aguri a teresa tanti aguri a te ecco il risultato migliore viene da youtube mi fa piacere